centro jackpot ok quella la lasciamo agli alli a quanto pare ragazzi benvenuti su un altro raid forse c'è qualcosa qua siamo con un po' di iscritti un po' di alli a quanto pare e questo raid ragazzi l'ho trovato io era vicino al precedente se volete vedere dov'è il precedente andate e vedetelo e niente e da lì ho visto fmap ho detto qua c'è un'altra fazione gli iscritti mi dicono qua sotto c'è altre cose quindi vado a vedere com'è e se si trova effettivamente qualcosa ma ok dobbiamo andare qua sotto terra a quanto pare e faccio vedere chi stiamo raidando fmap noi stiamo raidando i non so più chi comunque mi è venuta in mente una cosa ossia spawn e un iscritto mi ha dato un elmetto con acqua affinity per respirare sott'acqua ed è giunto il buon momento di usarlo ok dashback perfetto ora non ho più problemi di stare sott'acqua comunque oggi stiamo raidando fmap gli 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 o sono aspetta lascio fare così gli sfascia fazze fshow sfascia fazze e sono 5 land 40 power 40 max power quindi se li uccidiamo una volta li facciamo fuori fshow vediamo se shadow va accettata show shadow dice che ci sono due chest mi ha messo ali quindi tpa here shadow ok e ok vediamo se e dove riusciamo arrivare sono in un buco largo 1 ok loro sanno già dove andare a quanto pare perché vedo tutto così scuro brine se è al massimo ho messo la gamma 5 magari ho sbagliato boh non lo so neanch'io eeeh ho perso dov'è la fazione è di qua ho perso la direzione in realtà ah qua è di qua eeeh non so dove dobbiamo andare andrò casualmente qua tpa here shadow ok uuuuh questo si fa interessante diciamo veloce un altro prima che arrivi la lava prima del lava flow entriamo nella base ok c'è una cassa li sfortunatamente oh no c'è qualche cassa blocchi armi vario blocchi di pietra blocchi di legno io però la raiderei da un altro lato andiamo da un altro lato se no con la lava fa casino si tpa here lead ok 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 a meno che la lava non si possa chiudere ma non lo so non credo sembra che sia in territorio di clay questa è tutta cobble magari questa si riesce a prendere è solo questo blocco di lava che è un po' eeeh è un po' problematico volevo ritipare l'habd perchè ero in mezzo alla lava e e non mi ha tipato non ha tipato correttamente ok facciamo così allora inizierei con quelle casse la mmm sono un po' indeciso ok si inizierei con con queste casse qua ah c'è una caverna con dell'acqua come è la storia potremmo anche sfruttarla in realtà eeeh vediamo se riesco a sfruttare la caverna con l'acqua per per coprire lol cioè se riesco a sfruttare la caverna con l'acqua per per far fluire l'acqua sopra la lava così non abbiamo problemi non lo so in realtà perchè non è esplosa perchè c'è troppa acqua intorno si capito ok proviamo di nuovo ancora uno dovrebbe colpire ok direi che possiamo fare così quasi quasi e voilà e direi che ci siamo abbiamo trovato le casse quindi non serve neanche chissà che cosa le casse le possiamo fare da qua mmm sono un po' indeciso con quest'acqua su come fare come gestirla in realtà si potrebbe deviare il corso d'acqua da qua fare così boh ah ce l'ho fatta ora basta chiudere l'acqua e siamo a posto voilà mi ha sfruttato le caverne naturali ok ora si può tornare giù da qua e credo fare solo la tnt normale tanto come vedete ragazzi io ho spiuso a fare con sto chat cioè adesso siete troppi mi dispiace che non riesco a coinvolgerle tutti ma guardate quante persone ci sono qua non riesco neanche a tippare altre persone ragazzi mi fa piacere ma ok va bene così dovrebbe andare ok e adesso facciamo di nuovo così non mettete acqua grazie ok vediamo il boom oh perfetto ok le lasciamo un po' per loro home home inventario di cobble per il raid del skybase perfetto guardate come si riempie la mia cassa questa è tutta pietra che noi non andremo a scavare back ok 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 led se manca qualcuno dei qualcuno dei nostri tippalo tippalo pure così non devo tippare tutti io non tippo tutti io solo membri no ali ok e ok continuiamo qua ci sono ancora casse quindi possiamo continuare da qua ci prendiamo anzi questa cobblestone che ci fa comodo e continuiamo da qua vediamo si il massimo è qua quindi possiamo continuare da così e yes saranno ancora 3 o 4 cubi ci siamo quasi ok un po' più in alto leggermente più in alto si ok 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 ci siamo quasi andrei ancora di uno più in alto è perfetto così mi sa che ha colpito mi sa che ha colpito il soffitto ok ah solo lì non ho non ho clamato il bordo vuoi vedere che non ho clamato il bordo se non ho clamato il bordo rido eh già mi sa di si come morire a caso ecco perché mi servono ok va bene sempre qualche gap facciamo così sì dovrei essere in grado di bloccare tutto in ogni caso non è un grosso problema ok ce l'abbiamo fatta c'è ancora della lava di lì però va bene per ora siamo a posto non vorrei che quando apro le casse tipo tutto tutto il resto mi si brucia per colpo della lava e non ce ne accorgiamo ve lo dico stiamo un attimo attenti anche a ste caverne così a caso ok almeno sto sfruttando anche la gap ok ho chiuso più o meno tutto questo si può iniziare a far esplodere e abbiamo un po' di roba effettivamente ce n'è cose ok andiamo avanti qui arriva un punto dove sarà tutto climato ok ci siamo l'ultima mettiamo qua e via ce n'è porca miseria di lava però credo che abbiamo preso gran parte delle cose sono soddisfatto ok adesso c'è ancora quell'area di lì è coperta di lava sotto però solo sotto il che va bene per noi direi allora andiamo a dare un occhio di là quanto si può ok qui è climato quindi l'hanno gestita un po' meglio da sto lato forse si conviene farlo da di là quella era la zona migliore oddio non lo so se ci conviene da qua o da là semplicemente non lo so forse ci conviene da qua sinceramente si continuiamo così buono 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 dell'oro vedo cadere dell'oro boh otto di oro una ghepo qua c'è del ferro non so chi è che sta abbandonando così tante cose tipo io non lo farei magari tolgo questo ma mi prendo il ferro perché il ferro comunque ha un valore nel gioco ok vediamo qui non c'è nessuno che fa looting ci penso io sono looting diamante ok 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 facciamo così stiamo stiamo già raidando raidando sorry ok bamba centro jackpot ok quella la lasciamo agli alli a quanto pare non è un tanto a quanto pare perché alla fine se la sono ciucciata come cassa va bene comunque è anche un piacere perché in tanti mi trovano raid che cioè io non avrei tutto il tempo di fare tutto quindi va bene anche se un po' di roba la prendono loro ok ok l'ultima cassa non c'era un granché poi c'è quest'area la chest room l'abbiamo presa c'è a quanto pare uno spawner probabilmente ok è uno spawner naturale l'hanno già preso non si capisce è qua 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 in alto è qua in alto da dove si parte per andare a prendere quello spawner o da qua ed è là vorrei andare a vedere un'occhiata ce l'ho una enderpearl allora vado a posare un po' di roba direi quindi posiamo un po' di roba tra cui boh prendo il ferro da qua home home ok è che siamo di nuovo pieni dovrei aver svuotato una cassa se non sbaglio è qua sì leggermente vuota ok posiamo oh merraid oggi un berraid ok perfetto back voilà allora per questa cosa mi serve una enderpearl quindi warp shop ho preso intanto delle gapo non avevo così tante sicuro come vedete il mio balance è salito perché gli iscritti hanno farmato un po' dal nostro spawner e mi hanno pagato quindi grazie e così non devo fare tutto io cioè il grinding diciamo che è la parte che occupa neanche tantissimo tempo perché con il spawner che abbiamo ci va tipo un 10 minuti di grinding voglio vedere dov'è lo spawner quindi se questo si leva vi do anche delle ender per raga voglio vedere dov'è lo spawner ok sono più a destra è più a destra il render non la ok è più di qua quindi rifaccio un fmap giusto in caso direi che forse quasi quasi ci conviene se di là è ovest vediamo se qualcuno mi protegge giusto per dobbiamo andare proprio ad ovest che forse da forse da ovest ci conviene qua c'è delle casse però comunque le casse in basso del grinder quella è roba che non mi interessa ok si può provare forse ci conviene dall'altro lato ci provo perché l'ho visto prima a vedere di là com'è la situazione e forse da di qua ci mettiamo di meno vedere anche dove sono allineati gli altri ok vediamo quanto arriva in qua il clay mi mettono le torci grandiosi non lo so quanto se conviene o meno comunque se il glosso devi play gli spawner sono tipo qui ok no no è troppo è troppo largo il clay cioè sarebbe qui oh diamanti lol wow andrei a vedere wow ancora più diamanti lol 2 di fila 2 vene di diamanti in video ok vediamo di qua qui è ancora clay mat gli sto facendo un giro intorno ragazzi per vedere dov'è il posto più vicino per fare il cannone non per altro quindi 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 proviamo così voglio vedere com'è lì la situazione rispetto da di là ok c'è un mineshaft ho perso gli altri ok secondo me ci conviene da di là cioè è più o meno là dove ho fatto il buco in maniera indicativa qui servirebbe qualcuno che va agli spawner questo è un arco incantato power 1 nulla di che lascio le frecce perché tanto non ne faccio niente sì io farai qua non so di preciso dov'è magari vado là guardo la z value si dice e poi torno di qua e la faccio non so di preciso